Mi chiesto già su YouTube Ma ragazzo, che devo fare? E quello ha le gambe di stella Ma le gambe di stella? Per vedermi di fronte, prendi la pulsantiera Segui verso il basso Esigni questa posizione su una superficie morbida Come un tappetino Uguale Due coperte Vado? Strittura Poi lo fate di sannare le gambe sul televisore? Ho fatto YouTube Lo devi fare Sostieni il bacino con le mani e avvicina il vento al torasse Questo cazzo Ora, porta in alto il bambino e il tocco A poterlo che svolta Su, eh? Quando arriva tutto il equilibrio Manchia di una posizione L'energine non riesce a rivedere Le punte dei piedi verso il soffitto Eh, dove o no? Porta in alto il bambino e il tocco Allora, cosa fa? Questo va? Eh, sì Se riesci a tenerlo più verticale Se no, sta più verticale Se vuoi tirane due Una più intelligente dell'altra Guarda tu Prendi le mani a terra Per ripartire di passare lentamente la schiena Sono un grande Sì, si roghi Ma vai, vai, tranquilla Vuoi fare un altro? Sono troppo forte Sono troppo grande Grande il marton Ehi E poi